Sono i progetti di uno strumento. Il livello di dettaglio è straordinario. Mostra ai gemelli una Han e una Cheven che fuggono da Paititi protetti dalle tenebre. Dopo essersi avventurati nei boschi, sono come scomparsi nelle viscere della terra. La faglia. Che questa sia la valle delle scimmie gemelle. Mostra una processione diretta alla valle degli dei, guidata da suoni o da un canto. Le persone trasportano i loro averi e quelle che sembrano offerte votive. Devono essere degli adoratori. Non tutti hanno guardato con scherno alle scimmie gemelle dopo la loro fuga da Paititi. Qualcuno le venerava.